Altro errore secondo me abbastanza evidente, il centrocampo del Bologna non può prescindere da Filippini, questo è il mio parere, però siccome sappiamo che le partite si vincono comunque a centrocampo, perché il centrocampo è quello che ti protegge la difesa, come ti dà le palle per gli attaccanti, quindi se a centrocampo la squadra avversaria è superiore, io credo che difficilmente tu puoi dominare e vincere la partita. Poi gli episodi magari delle volte non dica la verità, però io la penso così e faccio i complimenti al Presidente perché io la penso nella stessa maniera. Benissimo, allora c'è una battuta di Max prima di lanciare il messaggio promozionale di Criomax, vai. Io non sono d'accordo con i Presidenti invece Alberto, te lo lancio da qua da Bologna perché se i suoi rilevitati ci sono giusti che lo chiedono.